Un cadavere completamente carbonizzato è stato ritrovato all'interno di un'automobile nella periferia di Castellamare di Stabia in provincia di Napoli. Il corpo senza vita era all'interno di una Suzuki Swift parcheggiata nella periferia nord della cittadina stabiese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellamare di Stabia per i primi accertamenti. Al momento non è esclusa alcuna pista. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6.30 per la segnalazione dell'incendio di un'auto quasi ai confini con torre annunziata. Qui era avvolta dalle fiamme la vettura quando il ruogo è stato domato nell'abitacolo è stato scoperto il cadavere carbonizzato. Lo stesso nome, lo stesso lavoro, lo stesso tragico destino. Francesco Ferraro e Francesco Pastore erano rispettivamente un appuntato e un maresciallo dei carabinieri in servizio a campagna nel Salernitano. Pastore aveva 25 anni, Ferraro ne avrebbe compiuti a breve 27. Con loro nell'auto di servizio che stavano conducendo verso un punto scelto per un posto di blocco un terzo militare. Quel posto di blocco però non è mai partito. Nell'eseguire una svolta in direzione della stazione di rifornimento carburanti scelta per il presidio, l'auto dei carabinieri è stata infatti centrata da un SUV che viaggiava a folle velocità e che dopo l'impatto ha colpito anche una seconda automobile che procedeva a lungo il senso posto di marcia. Niente da fare per Pastore e Ferraro, entrambi stroncati dalla violenza dell'incidente. Ferito gravemente il terzo militare, così come anche il 75enne che guidava l'altra automobile coinvolta nella carambola. Al volante del SUV, una donna di 31 anni originaria di campagna, risultata positiva ai primi testo psicologici condotti su di lei dopo l'impatto. Nel suo corpo tracce di alcol e cocaina. Avrebbero diffuso in tutta Europa e in particolare in Francia circa 60 milioni di euro contraffatti, banconote da 50 e 100 euro di pregevole fattura. La banda di falsari legata al clan Mazzarella di Napoli, sgominata dai carabinieri nel corso di una vasta operazione al termine della quale sono state notificate 63 misure cautelari emesse dal GIP di Napoli su richiesta della DDA partenopea. La circostanza è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa alla procura di Napoli indetta dal procuratore Nicola Gratteri, alla quale sono presenti tra gli altri generali dell'arma Scandone Cavallari. Le banconote da 100 euro costavano agli acquirenti 10 euro, 5 euro invece per quelle da 50 euro. Nel corso dell'incontro con la stampa è stato anche specificato che parte di questo denaro contraffatto ancora circolava in diversi paesi europei. La vendita delle banconote di euro falsi di pregevole fattura, come attestato anche dalla BCE, avveniva anche in una congrega religiosa, una sorta di circolo ricreativo dove si giocava a carte. Abbiamo deciso di porre in essere un'azione forte occupando gli uffici del rettorato come è già avvenuto a Roma, a Torino e a Bologna. Siamo stanchi di attraversare i nostri atenei mentre vengono raccontate bugie su bugie, mentre i luoghi del sapere vengono militarizzati. È stato questo l'annuncio diffuso in una nota dagli attivisti della rete studentesca per la Palestina che a Napoli hanno occupato il rettorato della sede centrale dell'università. Apri al pubblico l'ascensore di Monte Echia, situata nel punto in cui via Santa Lucia incontra via Chiatamone. Sono passati 18 anni dal progetto primordiale, ciò rende l'opera una delle più attese in città dopo una lunga fase di realizzazione, sia sul piano tecnico che burocratico. Il promontorio del Monte Echia si staglia sul Golfo di Napoli, fra il volgo di Santa Lucia d'Est e la conca di Chiaia d'Ovest. L'ascensore che verrà gestita ora da ANM, azienda napoletana Mobilità, contribuisce a rendere il luogo ancora di più uno strumento turistico. All'inaugurazione ufficiale ha partecipato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, accompagnato dall'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza e dal direttore generale di ANM, Francesco Favo. Il complesso monumentale, la Biblioteca dei Girolamini, gioiello cinquecentesco di storia, arte e cultura, tra i più straordinari, nel primo weekend della riapertura, è stato tra le mete preferite degli appassionati per la Domenica al Museo di Aprile. Il sito di Via Duomo è entrato nella classifica dei luoghi più visitati ieri con le sue 1577 presenze, ma non è stato l'unico. Oltre a Palazzo Reale, che svetta con i suoi 8.032 visitatori che hanno affollato le sale, sono diversi luoghi simbolo di Napoli e della Campania che hanno registrato un'affluenza elevata.